Tra le società protagoniste dell'Imm Investor Day 2016 abbiamo Mobite e abbiamo il piacere di avere qui con noi Giorgio Nani, amministratore delegato della società. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno ai suoi spettatori. Quali sono le linee di sviluppo strategico di Mobite? Mobite fornisce servizi per il mobile marketing, quindi servizi sms per le aziende, ma anche servizi email e per il web marketing e advertising. Diciamo che il nostro mercato principale è il mercato degli sms professionali. Noi forniamo servizi ai grandi e piccoli clienti italiani e anche a livello mondiale, direttamente dalla nostra sede italiana e dalla sede francese, per poter effettuare operazioni di promozione sulla propria clientela, quindi praticamente il retailer della situazione non fa altro che utilizzare Mobite per avvertire i propri utenti, quindi i propri clienti, per operazioni di marketing riguardanti un evento o per sconti o per altri tipi di servizi. Ma non solo. Il nostro servizio viene anche utilizzato dai grandi gruppi mondiali per poter effettuare i recovery delle password, le banche lo usano per le one time password o per avvertire che hai avuto una spesa sulla carta di credito e altri servizi transazionali di questo tipo qua. Per quanto riguarda il mondo degli investitori, perché investire in Mobite? Come risponde? Mobite è il market leader italiano assoluto di questo settore. Per farle un esempio, noi stiamo crescendo e abbiamo fatto degli ottimi risultati nel 2015. Diciamo che il titolo tuttora non ci ha premiato, quindi io mi aspetterei che si segua, in quanto noi a livello di business siamo stati bravi tuttora, e saremo bravi chiaramente in futuro, e ci aspetteremo chiaramente che gli investitori ci aiutassero a far crescere in questo caso il nostro titolo e fare in modo che lo stesso chiaramente possa crescere. Noi facciamo la nostra parte, cioè quelli che producono utili e che fanno EBITDA. Poi il mercato ci aspettiamo che ci possa seguire. Parlando proprio di mercato, di titolo, le faccio l'ultima domanda che riguarda proprio il giudizio, il suo giudizio sull'esperienza di quotazione sull'AIM Italia. Dunque, l'esperienza è positiva, in quanto abbiamo chiesto 4,5 milioni al mercato, abbiamo avuto 4,5 milioni, che abbiamo poi prontamente utilizzato praticamente un mese dopo per acquisire una società. Diciamo che per questo, secondo me, funziona benissimo, diciamo. Quindi per poter raccogliere, in questo caso, fondi dal mercato. Meno riguardo, diciamo, alla liquidità sui titoli, non sul titolo, ma sui titoli in generale dell'AIM, noto che ci sono pochi soldi all'interno di questo mercato. In ogni caso, la nostra esperienza è stata comunque positiva. Ringrazio Giorgio Nani e Mobite. Grazie. Grazie.